Dopo la sconfitta di sabato sicuramente dobbiamo ritrovare la serenità e la grinta e la libertà di giocare contro una squadra che esce da 5 vittorie consecutive che quindi sicuramente è molto agguerrita e vogliosa di portare a casa anche la sesta partita di campionato, la sesta vittoria, quindi speriamo noi daremo sicuramente il massimo e vi aspettiamo a tifare. Ciao!